Ciao, siamo in Liverpool Live Gator Park, siamo una band garage punk rock and roll di Conegliano, sono Emanuele, voce chitarra. Io sono Francesco, batteria. È un progetto che è nato in realtà come side project, venivamo da altri progetti, abbiamo detto basta, fanculo tutto, proviamo a fare questa cosa senza regole, schemi, facciamo le nostre canzoni e è venuto fuori il primo EP così proprio dal nulla come sfogo e basta, sono nati così in Liverpool, proprio per una band per divertirsi e suonare in giro il più possibile in realtà. Credo che sia successo quello che è successo alle prime garage band californiane quando è nato il garage, noi non sapevamo niente però avevamo un suono e un'attitudine garage, poi abbiamo trovato in quello che facevamo, nei suoni e nell'attitudine, una scena che si conosce a presente e che c'era e che poi abbiamo approfondito. A volte non basta essere in due nel senso, ogni tanto mi sento limitato ma a volte appunto questo limite mi starò più creatività, hai solo una batteria, hai solo una chitarra, hai solo una voce, devi cercare di costruire canzoni con queste tre cose, questa cosa è veramente figa, fare, cioè essere creativi originali con pochissimo, è molto punk. Assolutamente. Finalmente dopo tanti anni che suoniamo ho capito esattamente la chitarra come voglio che esca, quei tre effetti chiusi come voglio che siano messi, la batteria anche lui, ha fatto un lavorone sulla batteria e comunque c'è costante ricerca secondo me dei suoni, però adesso negli ultimi mesi abbiamo trovato veramente la nostra dimensione, il mood molto anni 60, un po' anni 70 per certi pezzi e mettere insieme queste cose e insieme al punk. Credo che la forza appunto anche di come ci presentiamo a un pubblico nuovo sia di avere proprio un progetto definito, c'è un concept, c'è musicale, grafico e uno dipende dall'altro. Il progetto in realtà è stato creato per i live, c'è proprio live, ci divertiamo tantissimo e appunto come diceva Fra prima, non abbiamo mai una scaletta super impostata, ok? C'è la scaletta, capisci un attimo come imposti la serata, ma c'è anche improvvisazione e cambi di canzone che sono fatte tutte dagli sguardi di me, lui ed è quella la figata, molto rock and roll. Genuinità e spontaneità, proprio suonare, sudore, trovarsi, comunicare, comunicare magari non verbalmente con le persone ma trasmettere e farsi trasmettere qualcosa insomma dalla gente in qualche modo. È proprio la ricerca di essere i più veri possibili. Noi siamo Liverpool al Gator Park e trovate la nostra musica in tutti gli store digitali, Spotify, eccetera, eccetera. E ovviamente siamo su Facebook, Instagram, tutto rigorosamente in bianco e nero. Rock and roll. Peace. Peace. erve. Ciao. Grazie a tutti.